Credo che pochi di noi si sarebbero aspettati di dover combattere una guerra come quella che stiamo combattendo. Una guerra che va vinta al più presto e possiamo farlo attraverso, innanzitutto, l'osservanza dei comportamenti che continuamente ci vengono ricordati e dall'altra con il sostegno a chi è in prima linea, medici, infermieri, tutto il personale ospedaliero. Ci è richiesto anche un contributo, un sostegno di tipo economico in questo momento perché è necessario. Ed è la ragione per cui la Fondazione Solidal, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, hanno aperto e organizzato una raccolta fondi. Poco importa, ognuno di noi sa che possibilità ha, quindi poco importa se si dona poco o tanto. Ognuno però, in proporzione alle proprie possibilità, deve mettere, non importa se è un sassolino o un macigno, ma una pietra nelle mani dei medici e degli infermieri da tirare contro questa maledetta bestia. In questo momento è una guerra che noi possiamo vincere soltanto tutti insieme e quindi è richiesto lo sforzo di tutti e di ciascuno di noi. Facciamo. Facciamo.